Stiamo salendo al primo piano della casa in cui abbiamo posato un pavimento in legno, in rovere, molto rustico, nodato, perché come vedete Marina e Valerio piacciono molto questi mobili antichi in stile industrial, che si sposano benissimo con il pavimento scelto. Ora vi accompagno, passiamo un attimo dalla camera, e vi accompagno nel bagno, un bagno molto particolare, sempre uno stile industrial, un mobile bagno a terra, laccato nero, maniglia a gola e piano ingress. Lo stesso grasso utilizzato per l'alzatina, un grande specchio, lavabo freestanding, quindi ad appoggio, lo stesso nero laccato è stato utilizzato per queste mensole e colonna. E qui è la parte più particolare, che un po'... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.